A tu per tu, c'è la rete sulla radio, e Guglielmo nell'armadio, col tacchino intelligente, la sciacquetta e l'insalata, in diretta a tutti su radio, DJ, con Guglielmo che balbetta, in webcam in cameretta, il burino depilato, la modella in sovrappeso, benvenuti a tutti queste a tu per tu, benvenuti a tutti queste a tu per tu, benvenuti a tutti queste a tu per tu. Grazie